Benvenuti a questo video dedicato al limone, un frutto incredibilmente versatile che offre una miriade di proprietà benefiche per la salute. Oggi esploreremo le sue proprietà nutrienti, i benefici, le controindicazioni e condivideremo alcune deliziose ricette per sfruttare al meglio il potere del limone. Siete pronti? Allora cominciamo! Proprietà del limone Il limone è noto per il suo gusto acido e rinfrescante, ma ciò che forse non sapete è che è una vera bomba di nutrienti. È ricco di vitamina C, che sopporta il sistema immunitario, favorisce la produzione di collagene per la salute della pelle e aiuta ad assorbire il ferro. Il limone contiene anche potassio, vitamina B6, acido folico e molti altri composti benefici per il nostro corpo. Benefici per la salute I benefici del limone sono numerosi. Ecco una lista di alcuni dei benefici associati al consumo di limone. Rafforzamento del sistema immunitario Il limone è ricco di vitamina C, che aiuta a sostenere il sistema immunitario e a combattere le malattie. Miglioramento della digestione Il succo di limone stimola la produzione di bile nel fegato, aiutando così la digestione dei grassi e migliorando la funzionalità del sistema digestivo. Detox del corpo Il limone ha proprietà detox e può aiutare a eliminare le tossine accumulate nel corpo, promuovendo così una migliore salute generale. Supporto alla perdita di peso Il limone contiene fibra e ha un basso contenuto calorico, il che lo rende un'ottima scelta per favorire la perdita di peso e il controllo dell'appetito. Benefici per la pelle Grazie alla sua alta concentrazione di vitamina C Il limone può contribuire a migliorare la salute della pelle, stimolando la produzione di collagene e riducendo l'aspetto delle rughe e delle macchie scure. Alcalinizzazione del corpo Nonostante il suo sapore acido Il limone ha un effetto alcalinizzante sul corpo, contribuendo a mantenere un pH equilibrato e a favorire un ambiente interno più sano. Idratazione Il limone è composto per lo più da acqua e può aiutare a idratare il corpo, specialmente quando viene aggiunto a un bicchiere di acqua. Aiuto nella regolazione della pressione sanguigna Il potassio presente nel limone può contribuire a regolare la pressione sanguigna e a favorire la salute del cuore. Supporto alla salute del fegato I composti presenti nel limone possono aiutare a migliorare la funzionalità del fegato e a favorire la sua salute generale. Effetto antinfiammatorio Alcuni composti del limone hanno dimostrato proprietà antinfiammatorie, che possono essere utili nel ridurre l'infiammazione nel corpo. Controindicazioni Nonostante i suoi numerosi benefici, ci sono alcune controindicazioni da tenere in considerazione. Il limone è acido e può causare erosione dello smalto dei denti se consumato in eccesso. Inoltre, alcune persone possono essere allergiche o sensibili al limone, manifestando reazioni come irritazione della pelle o sintomi gastrointestinali. Se hai dubbi o hai una storia di allergie, consulta un professionista sanitario prima di aumentare il consumo di limone. Ricette gustose con il limone Ora che conoscete le proprietà e i benefici del limone, è il momento di condividere alcune ricette deliziose che vi faranno innamorare di questo frutto. Potete preparare una semplice acqua detox al limone, aggiungendo alcune fette di limone fresco a una caraffa d'acqua per un tocco di freschezza. Oppure, potete sperimentare con ricette più elaborate, come un gustoso pollo al limone o una rinfrescante torta al limone. Il limone è un vero alleato per la salute, con le sue proprietà benefiche e il suo sapore unico. Ricordate di prestare attenzione alle controindicazioni personali e consultare un professionista sanitario in caso di dubbi o condizioni di salute specifiche. Mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale e condividete questo video per diffondere il potere del limone con il mondo. Grazie per averci accompagnato in questa scoperta delle proprietà, dei benefici e delle ricette del limone. Ci vediamo al prossimo!